Ma quanto costa un giro in gondola? Parliamoci chiaro. La tariffa ufficiale delle gondole a Venezia è 80 euro per 30 minuti. Se scatta la fascia oraria notturna costerà 20 euro di più. Che siate in due o che siate in cinque, questo è il costo della barca. Online troviamo un sacco di informazioni, come per esempio agenzie di viaggio che vendono i tour in gondola a 32 euro a persona. Allora adesso parliamoci chiaramente anche su questo. Detti 32 euro che 32 euro fa 64 e pensano di prendere una gondola privata per risparmiare 16 euro. È ovvio, è evidente che non funziona così perché se la capacità della gondola è 6 persone vuol dire che avrai altre 4 persone a bordo. Tra l'altro se prenoti con l'agenzia dovrai prendere la gondola dove dicono loro all'orario in cui dicono loro con 16 euro in più. In realtà tu prendi la gondola che vuoi tu, dove vuoi tu, all'orario che vuoi tu per vedere quello che vuoi tu. Eventualmente l'alternativa qual è? Prendere le gondole da traghetto, queste costano soltanto 2 euro e sono le gondole che fanno spola da un lato all'altro del canale grande. Costano 2 euro per turisti e 70 centesimi per residenti. È un servizio comunale. Se vuoi avere altri consigli su Venezia, metti un like e seguici.